Arrivano le date e arrivano le risposte. Il porto sarà completato entro il 26 agosto 2018, ovvero in 720 giorni a partire dalla data del 22 settembre, ovvero il giorno dopo la conferenza stampa del sindaco Sollazzo. La risposta da parte del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria, a firma dell'ingegnere Luigi Zinno, pare sia arrivata in meno di 24 ore, ma è stata comunicata soltanto ieri. Vabbè, tempi di comunicazione a parte e volendo fare a meno di pensare male per una volta, verrebbe da dire che finalmente ci siamo ancora una volta. Si riparte ancora una volta dalla messa in sicurezza del cantiere, dal ripristino della recinzione o vedanneggiata, dalla verifica dell'efficienza dei container mobili compresi i servizi igienici per passare poi alla demolizione di un manufatto che un tempo fungeva da accoglienza per i diportisti e poi da deposito per i pescatori. L'amministrazione comunale esprime soddisfazione perché finalmente si parla di tempi concreti, non si abbasserà il livello di attenzione nel coinvolgimento di tutta la comunità, scrivono dal Comune, al fine di giungere ad una risoluzione definitiva della vicenda. Parte del documento, inviato dal Dipartimento, si sofferma sullo stato degli immobili, il vero patrimonio dell'area destinata ad ospitare l'opera portuale e i servizi annessi. Sono stati riscontrati scoli funiali da sistemare, materiali e rifiuti di ogni genere da smaltire, contatori elettrici ancora tutti alimentati. Insomma bisognerà ricominciare da zero ma con la certezza scritta che non ne emergono particolari interferenze che possano impedire la consegna dei lavori. L'ipotesi di altre due stagioni estive con il cantiere aperto deve quindi essere vista con soddisfazione perché a questo punto dovranno essere le ultime. Intanto già la prossima estate il panorama dovrebbe apparire sensibilmente diverso se è vero come è vero che dopo le opere a terra il passo successivo sarà quello di completare il molo di sopraflutto, opera fondamentale per procedere poi con il resto dei lavori al riparo dai marosi e dalle intemperie.